Parma di Apolloni, c'è un aneddoto che la Lega a Gigi è a Parma in meia particolare, anche se è stato soffritto. No, vabbè, io ho vissuto il periodo d'oro di Parma perché sono arrivato chiaramente in una situazione diversa da adesso, ma solo per, come dire, la differenza sta nella categoria, perché anche adesso sono state ricoinvolte persone, ho trovato dentro lo spogliatoio tante persone che facevano parte dello staff di quegli anni dì, stiamo parlando del 97-98, quindi andiamo dietro tanto negli anni purtroppo, quindi credo che i valori che c'erano in quel periodo lì ci stanno anche adesso, bisogna avere pazienza e lottare fino alla fine, perché come ho detto, anzi il campionato è difficile, non sarà facile, però oggi già le spalle larghe per superare anche le eventuali critiche, perché sa che accettando un incarico del genere la gente di Parma ha il palato fine e quindi esige vincere vedendo anche giocare bene, quindi non è facile coniugare queste due cose, sarebbe già importante per lui provare a vincere questo campionato, poi il come, il limite di certo, ci ragioneranno nuovo.